Con l'avvocato del popolo Giuseppe Conte si passa dalle leggi ad personam a quelle salva suocero. Eh sì, anche l'avvocato del popolo tiene famiglia. E allora vi racconto rapidamente questa storia, sulla quale mi sarebbe piaciuto sentire qualche commento degli Amici 5 Stelle. Onestà, onestà, onestà. E invece, shh, silenzio. I fatti sono molto semplici. Il padre della fidanzata di Giuseppe Conte, l'avvocato del popolo, è anche proprietario di un grande hotel a Roma, l'Hotel Plaza, che dal 2014 al 2018 si sarebbe dimenticato di versare la tasse di soggiorno per circa 2 milioni di euro proprio al comune di Roma governato da Virginia Raggi, che è una grillina. Tutto questo lo ha portato alla sbarra e si traduce in un reato che si chiama peculato, tanto che i suoi stessi avvocati gli hanno consigliato un patteggiamento che lo avrebbe portato a una condanna per un anno e due mesi di reclusione. Ma qui entra in campo l'avvocato del popolo. Nelle pieghe del decreto rilancio, infatti, importantissimo per rilanciare il post-covid, c'è un articoletto, il 180, che si intitola Ristoro ai comuni per la riduzione del gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia. Quali altre disposizioni? Proprio a depenalizzazione del reato commesso dal suocero. Pensa che culo! Al comma 3, infatti, leggiamo. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno nel contributo di soggiorno, si applica una sanzione amministrativa di cui è il decreto legislativo bla bla bla. Insomma, non più carcere, ma una multarella. Ma sta in c***o! Mi raccomando, scansiti G1. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì